Scusami Joker, puoi un attimino ripetere quello che hai detto? Il mio amico credeva negli alieni e per fare sta cosa degli alieni si è fatto dei taglietti sul braccio per dire che gli alieni l'hanno rapito, ha avuto le visioni Ma io, ma io, ma io, cioè, no, no, voi ridete, ma ha fatto pure il video su YouTube, avvistamento di un UFO, cioè, voi ridete, ma questa persona non stava bene mentalmente E mandano, mandano i video dopo Ok E questa è la intro, partiamo subito col video Lo sapevo, porca troia Vai, parti Guardate ragazzi, esistono razze Scrivi qualcosa di, ok, qualcosa di cattivo, scriverò di quella volta che cagai su un autobus Benissimo, e iniziamo subito la demonetizzazione E iniziamo subito il mio amico ti paga che soldi Quella famosa cosa chiamata monetizzazione, che non esiste, come in Molise La mia, la mia frase è brettissima La mia è bellissima Soffiateci sopra No, che schifo Che cazzo Ok Le mie doti altissime sono qualcosa di eccellente E poi provate a camminare in una strada Ho capito che dovremmo censurare un bel po' di cosa Ma io non ho fatto niente, io ho fatto quello che c'era scritto nella frase, quindi Ma io ho fatto un caldo Che cos'è sta immagine? Guà, il piccione che lo sta guardando, non lo so, è più confondo di me Non lo so, non lo so Lo sanno tutti gli amici Mi sono schiacciato le parole Io non so cos'è Demon Slayer, che cazzo mi fa? Non lo sai, un nerd Che schifo gli anime, nel dubbio Ricordatevi ragazzi Il problema del razzismo è soltanto una cosa nostra occidentale In realtà non è veramente un problema È tutta una creazione di calenda Che cos'è sto coso? Ma che cos'è? Credo che questa frase che ho scritto corrisponda a quello che sto vedendo adesso Perché hanno scritto Perché al centro c'è un no, a destra c'è l'Ucraina, a sinistra c'è il C Quindi non capisco che cazzo sta succedendo Scusami, cosa centro io con l'Ucraina? No! Ma che cazzo? No, è capitato a me! Ragazzi, chi è quell'uomo acculturato che conosce questo sito? Quale sito? Chissà quale Allora, io si può me disegnare A posto Scribidi 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 Ragazzi, ma se volete parlare con le rime Parliamo con le rime Cazzo, cazzo sei un poeta? Ma cos'è? Ma cos'è? Non mi sbaglio Il mondo all'anisciano guarda Ragazzi, ma che cazzo state... Vi siete fumati per vi fare sto... Ma porco... Pensa che dovrai censurare tutto quanto Pensa che questo video non vedrà mai la luce No, 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 io lo faccio, io lo faccio Però... Perché puttana sarà... E non lo posto Cazzo Cosa cazzo... Non so neanche cosa sia sto coso, boh Per me è questo coso qui Allora, per me questo che ho visto qua davanti Secondo me è Star Wars se sei dislessico Oh, santo Dio Fammi vedere qui Fermi un attimo Fermi tutti Devo un attimino girare la mia visuale Eccolo qua Mi vedrete tutto tagliato male Non mi interessa Va bene, allora inizio No, no, mi sono posizionato Ok, va bene Farò il commentary così Vai Red Scrive Giangiarlo che prepara il... Ok Va bene, va bene Joker Comuniste prostituta No No Sì Comunista Salva C No Ok Edoardo C che va dell'Ucraina su un Tiger 1 Ah C è semplice TG5 No Ha fatto cambio fazio Guarda la mia risposta Guarda la mia risposta E poi ci sono io che scrivo questo In pratica sono negazionista dell'Ucraina adesso Sbagliato in Orsia Il negazionista del fatto che... Ucraina non esiste Come Australia Guarda la mia risposta a questo No No Eh ma dov'è il... Ah è vero il Molise non resiste Ah ecco Da dove è nato? Da dove è nato? Oh no A me sembrava Non schifidi No 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 Torniamo sempre su quei punti ragazzi Ma nemmeno schifidi Schifidi Ora tocca a Makima Unicorno sporco che piange Cavallo curioso Guardate la mia risposta a questo Ah ma Ecco Ok Ah ecco che cos'era Io ho scritto questo È un bruco Lupo per i fiammato per i troppi no Bruco Io ho dovuto... Ecco Questo l'ho reso un attimino più monetizzabile A peggio che... Ah no sai che cos'è? È la pistola Non ridere Non c'è un cazzo a ridere No 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 Red Star Wars Ma se... Sei dislessico Il... No Se i personaggi di Star Wars Sono da versare i denti No Si avevi... Che farò? Ah Ecco cos'era Era proprio Joker Davvero il coso Demo Slayer senza Dimo Ma con i... Demo Slayer senza Dimo Ma con i... I'm a fire in my laser Ok Ma è anche ecco Steve su Spunkbun... Cosa? No! Steve di Minecraft ha visto cose che noi umani... Peter Griffin gioca a U4 Sex Update Ah eccoci qui Alessia Marcuzzi Zerai Vuoto Ma chi me c'è rimasto male Ridico Ma perché Peter Griffin a caso? Mi hai diventato Papa Pagano Oh no Ma che ti fai pagato? Ah ecco che cos'era Io ho risposto così Salvi di capo No ragazzi se ne fa un altro Così entra anche Darth Vader La tavoletta grafica ragazzi sono pronta a combattere adesso Ah hai veramente la tavoletta grafica? Sì è una merda che ho preso un paio di anni fa Mamma mia che scioppone Questa credo che è un bel dissing a una persona che conosco Ma intanto chi è che sta parlando in sottopondo veramente? È Darth Vader Ah mi muto io Ecco ma Ah si è andato Oh è uscito No no Si è mutato? No sono andato proprio Mi dispiace Un'altra censura da scrivere qua sopra A chi è uscito ora? Secondo te Ok Basato Basato Perché parli a Poison? Si è appena suonato l'inferno in casa Quest'anno Nei Ok Io ho dato una frase che A chi è arrivato Garibaldi? C'è qualcuno che ha arrivato Garibaldi? Garibaldi Io ho un sci satanico Perché sta nelle Brigade Rosse Ok Ogni volta che entro Oddio C'è Emilio Sussolini Maui Maui Ma Cosenza Ma Cosenza si trova a Catanzaro? No Cosenza e Catanzaro sono tipo Le due città ultra nemiche che si odiano E la madonna cazzata Toscana tipo Si tipo la Toscana perché Si separa un monte quindi si odiano Povre Italia nel 1300 Tutti si odiano Vabbè Toscana Toscana letteralmente I senesi quando scoprirono di aver perso Contri Fioritini Poi rimarranno i bisognenti D'altro dopo 100 anni Quante belle meme che potrà mettere qua Edoardo Ragazzi Secondo voi I 100 milioni di morti in Cina Sono stati veri Sono veri Ragazzi È propaganda occidentale perché Mao Zedong non è mai esistito Io faccio una cheat a Chienete Caselli Oh yes È il nuovo merda che mette con il Bene Questa è una copertina di quel famoso Mi tocca farlo Devo prendere il mio pista Cosa? No non c'ho voglia Troppo complicato fare le gosci Cosa stai dicendo? Non farti domande Va bene Forza Cagliari comunque Ho fatto il tizio di Undertale Perché? Non c'è senso Andai in Asgore No il che è di merda cieco Sta piovendo Sta piovendo Procede a sputarli addosso Oggi essendo che sono stato Nominato nel video di C Faremo una causa A C al suo server Di ben 100.000 euro No Il show gamer ragazzi È come Majibu Più diventa macro Più diventa macro Il show gamer mi ha denunciato Oh no Prossimo video Tutto triste Ragazzi devo dire più una cosa Oggi faremo il Cazzo Ho giù una merda No io stavo chiedendo Se stavate giocando La modalità normale O quella In cui si disegnano i corpi In quella normale Give me a sign Quella in cui disegnano i corpi Sta da necrofilo Mmm Kadami buoni Non potete essere normali Per due minuti Ci hai me Hai orange Hai machima Ci sono io Mettete pronto Mettete pronto Adesso facciamo Adesso facciamo Io quando vedessi mi vedessi Bellissimo Mi vedessi Grande joker Va bene joker Oh no i burri Odio i burri Niente Darth Vader non ha trovato il buco Fattoio Madonna mia Ah no fermi signori Mi sono dimenticato di una cosa Fermi no 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 Fermate tutto Stacca 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 Che cazzo per cazzo tutto è vero Ecco Ok adesso sono a posto No ragazzi adesso vedete un cavolo a oro Sono tornato Che riballa Cos'è i dati È un concetto astratto Jatt Jatt Collina Jatt in Ohio triste E io faccio Lo ha io C'era che combatte con Ok Oh no E tieni scimpa Ok Ok questa dovrà censurarla Joker e suo strano fetish per il sole nero e i culti Ah ecco come ci siamo arrivati qua Oddio Il sole La prendo e me la metto come Covertina Come immagine profilo D'altro non voleva Non ce la faceva Lo scontro definitivo Perché l'uomo merda sembrava un tizio di oversimplified Oh no Perché l'uomo merda Mi ha appena tirato la scuola Un batte solo Per lo stercolar Leggio Ma lei fa lo citrulla Che vocabolo E io la mia risposta Ah no Io che cosa ho scritto La bellissima Oh adesso mi deducca un lavoro eh Batmovi metteci in questa Ecco come siamo Ecco come ci siamo arrivati Ecco come ci siamo arrivati Ecco come ci siamo arrivati E ancora Darth Banner Ah è la medusa Io ho scritto semplicemente che Questa non è Ibiza Mi ho fatto in voce Oh adesso devi dare un'altra No dovevi riscrivere Mestre Ma c'è slot Nuclearizzata Legge in festa Ora è Ibiza Allora ragazzi Nuovo il gioco C'è una cacchetta mustuosa Niente ragazzi Io dalla posizione Di come mi vedete adesso Nella telecamera Termino qua il video Salutate tutti quanti Ciao No Bellissimi E ricordatevi Che Batman è quello cattivo Non il Joker Sei cringe lo sai vero No sei gringo Giorgio No no Ma io sono il cringe È diverso Micchia me lo senti Io sono cazzo Ok Ricordate Alle elezioni europee Mettete una decima Per il simbolo della Lega E scrivete Skeletor per favore Poterti salutare anche te Perché sto facendo l'outro Ricordatevi sempre Non siete venuti sulla terra Soltanto per essere odiati Al nostro prossimo incantore E la ciccara Che impula la Befano Un ragazzo Incontra un ragazzo E poi Non succede niente Perché si prendono a scuola No Papa Francesco si incazza E noi non vogliamo far incazzare Il Pontefice Questo è il video E noi non vogliamo far incazzare